Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi in nuova video recensione voglio parlarvi dell'asciugacapelli bellissima IMETEC Revolution, l'innovativa tecnologia automatica con movimento a spirale del flusso dell'aria. Nella confezione con l'asciugacapelli si trova il convogliatore direzionale per direzionare l'area e definire la piega e l'automatic rotating draining, un'innovazione tecnologica applicata al convogliatore che rivoluziona il flusso dell'emissione dell'aria. Quando l'asciugacapelli è in funzione il convogliatore ruota automaticamente creando un movimento a spirale del flusso dell'aria che riesce a penetrare in profondità permettendo un'asciugatura veloce a partire dalla radice. I tassi presenti sull'apparecchio sono il colpo d'aria fredda per fissare la piega e 8 combinazioni tra il flusso dell'aria e la temperatura per personalizzare l'asciugatura a seconda delle proprie esigenze e della tipologia del capello. Ora vi mostro come utilizzo il foam. Inizio partendo dalla radice usando il diffusore in modo da asciugare bene i capelli e togliere tutta l'umidità. Procederò successivamente per la stiratura utilizzando il convogliatore direzionale e una spazzola tonda. Grazie a tutti! Questo asciugacapelli è dotato di Ion Technology. Lo ionizzatore riproduce il fenomeno naturale della ionizzazione scomponendo le particelle dell'acqua in microscopiche gocce che in parte vengono assorbite dai capelli che rimangono così più idratati. L'emissione degli ioni durante l'asciugatura consente di prendersi cura dei capelli perché gli ioni agiscono anche riducendo l'effetto elettrostatico e lasciando i capelli morbidi e lucenti. Utilizzo questo foam da quasi due anni e posso dire che i capelli sono davvero migliorati quindi la mia opinione su questo prodotto è più che positiva. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Vi lascio qui accanto il video precedente e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Vi aspetto!